buonasera benvenuti bentornati accuscito ergo zoom allora come ormai è tradizione visto che è l'anniversario dell'apertura del canale youtube come ormai tradizione ogni anno ritorno sul tema con cui ho esordito in questo caso gli alieni nella bibbia come fare una sorta di tagliando ogni anno perché mi sono reso conto che in teoria le mie argomentazioni che ho dato nel primissimo video che si chiama appunto alieni nella bibbia punto interrogativo in teoria dicevo erano sufficienti a stroncare del tutto la paleoastronautica con mia sorpresa e non senza un certo disappunto votato invece che non dico che non siano serviti a niente perché molta molta gente ha apprezzato e ha compreso però quelli che hanno apprezzato e hanno compreso non sempre erano i destinatari ideali dei miei video perché erano quelli che già in teoria sapevano già che la paleoastronautica è fuffa e quindi hanno apprezzato sì però puntava a quelli che erano convinti o quantomeno erano in dubbio sulla validità della paleoastronautica mi sono reso conto che impostare la questione come l'avevo impostata io cioè sul metodo che in teoria ripeto è quello che da solo basta a giudicare la validità di una teoria o meno mi sono accorto che questa cosa fondamentale non è stata compresa dai più a che mi sono sentito in dovere di fare altre dirette quindi però per non intasare il canale sempre dello stesso tema gli alieni nella bibbia ho deciso di scaglionare la questione ogni anno insomma anche perché poi parlando con i fan della paleoastronautica volutamente o non volutamente mi danno un po di diciamo di feedback e quindi in base a quello nel corso degli anni mi rendo conto di cosa vogliono di cosa si aspettano di come ragionano chiaramente non si può fare di tutta l'erba un fascio e anche perché altra cosa di cui mi sono accorto infatti è che ci sono diverse gradazioni diverse sfumature di paleoastronautico quindi c'è quello fanatico che con cui è impossibile ragionare ma quello lì non lo calcolo neanche come destinatario dei miei video ci sono diversi tipi di paleoastronautici con diverse motivazioni per cui seguono la paleoastronautica per cui sì col tempo insomma ogni anno faccio un video per ritornare sull'argomento in base a quello che ho imparato durante l'anno e infatti ho fatto un video che si chiama alcuni chiarimenti l'anno scorso e adesso farò ulteriori chiarimenti aggiungo cose che avrei dovuto dire che col senno di poi avrei dovuto dire nel primo video però d'altronde non potevo neanche fare un video di tre ore quindi si è un lavoro in costante aggiornamenti in costante miglioramento dicevo nonostante abbia detto che parlare di metodo lascia il tempo che trova indovinate un po parleremo guarda caso di metodo tanto per cambiare perché facciamo questa premessa metodologica nella storia delle religioni come disciplina in una delle prime lezioni che si fanno all'università se si studia storia delle religioni ti viene spiegato che ci sono due tipi di approccio quello tra virgolette classico quello che è stato usato per primo è cosiddetto fenomenologico di cui vediamo a sinistra la copertina di un libro di un caposaldo di questo metodo un testo ottocentesco di rudolf otto che si chiama il sacro disponibile anche in traduzione italiana essendo appunto un classico in cosa consiste questo approccio fenomenologico consiste nel assumere a priori che esista il sacro che esista questa dimensione altra e che i vari testi delle varie religioni siano una manifestazione di questo sacro poi si parla di ur monoteismus cioè quelli che di solito hanno questo approccio teorizzano l'esistenza di un monoteismo originario che poi si sarebbe corrotto e sarebbe diventato politeismo ma è un altro discorso però dicevo sì l'approccio fenomenologico consiste nello studiare i testi nell'approcciarsi ai testi come se questi fossero delle manifestazioni di un qualcosa di intangibile invece quello che è nato in italia è il metodo storico critico che considera i testi sacri esclusivamente come il prodotto delle culture che hanno appunto prodotto quei testi non dà per scontato l'esistenza di un qualcosa o della reale esistenza di ciò a cui questi testi fanno riferimento quindi c'è questa grossa differenza di base il primo approccio per esempio se hai delle cose che non riesci a spiegare rischia di portarti a concludere che se c'è qualcosa che non ti spieghi e perché deriva da questa cosa che la cui esistenza non è altrimenti dimostrata mentre limitarsi solo a ciò che si può dimostrare con prove è una novità che fu introdotta diversi decenni fa e che ha creato una nuova scuola di pensiero che è nuova all'epoca è quella a cui mi attengo io metodologicamente poi il bello di questa seconda opzione che alla fine non esclude una possibile esistenza di cose non dimostrate il problema appunto è che questa entità o questo sacro questi alieni quello che volete non viene usato per spiegare le cose inspiegabili rimane un'idea del tutto ininfluente quindi in teoria potrebbe essere adottata anche da un credente sia nel in qualche religione o sia nell'ideologia paleoastronautica allora perché ho fatto questa premessa perché nonostante diversi autori di paleoastronautica si autodefiniscano studiosi di religioni di fatto manca loro questa conoscenza di base elementare che nonostante i paleoastronautici abbiano pretese di scientificità nonostante i paleoastronautici si autodefiniscano non tutti ma molti studiosi di religioni non conoscono e quindi lo sto facendo anche per un loro favore questa spiegazione che ci sono diversi tipi di approccio è quello paleoastronautico è di fatto un approccio fenomenologico perché alla fine dà per scontato che gli alieni siano arrivati in diverse culture e che i diversi testi delle diverse culture siano in realtà resoconti di incontri con gli alieni cioè siano tutte manifestazioni dello stesso fenomeno il primo problema che riscontriamo con la paleoastronautica che questo assunto di base viene poi usato come base di appoggio per altre dimostrazioni quindi quello che ho sempre detto è che la paleoastronautica è di fatto una ideologia non ha nulla di scientifico proprio perché si basa su degli assunti a priori che possiamo tranquillamente chiamare dogmi che non vengono mai messi in discussione quindi non solo ci sono questi assunti ma questi assunti vengono usati come basi per ulteriori speculazioni e che rende la paleoastronautica paragonabile ad altre discipline non esattamente scientifica un altro dei tanti errori che commette la paleoastronautica è quello di mettere sullo stesso piano tre questioni che di fatto sono distinte e separate perché un conto e dire che elohim significa dio significa qualcos'altro un conto e dire che ruach significa vento spirito oppure può significare mezzo volante un conto e dire che cavod significa mezzo pesante oppure gloria quindi un conto è discutere sui significati dei termini se siano spirituali o meno un altro conto e distinguere se questi testi parlino di alieni o meno perché si potrebbe anche parlare di mancanza di trascendenza ma non fare nessun riferimento ad alieni cioè se si dice che certi avvenimenti biblici non sono spirituali in senso neoplatonico questo non vuol dire automaticamente che parlino di alieni i significati dei termini sono una questione distinta e separata rispetto ai riferimenti agli alieni non solo mischiano anche un terzo piano è quello della veridicità della bibbia anche qui è una questione distinta e separata cioè teoricamente la bibbia potrebbe anche parlare letteralmente di alieni e dire letteralmente che c'erano degli esseri che venivano da un altro pianeta che come ho detto più volte è un concetto tranquillamente esprimibile nell'ebraico antico per cui tanto c'è quest'altro grosso problema questa confusione che fa la paleo astronatica quindi il momento in cui dici che ruo ha un significato concreto poi salti a dire e quindi sono alieni e poi fai un ulteriore salto gli alieni sono esistiti davvero e il problema principale appunto della paleo astronatica questo questa serie di salti logici di andare per libere associazioni piuttosto che usare una metodologia e basarsi su fatti concreti poi mi si dice vabbè ma sono ipotesi sì però ci sono tre possibili casi ci sono le prove per queste ipotesi bene allora queste ipotesi verificate con dati di fatto non ci sono prove allora rimane un'opinione ci sono prove del contrario allora è una bufala non è più questione di essere aperti o no è questione che stai dicendo delle cose che vanno contro i dati di fatto quindi il problema è tuo che credi a qualcosa che va contro i dati di fatto non mio che preferisco a tenermi ai dati concreti e non alle ipotesi di un tizio che si è alzato una mattina e ha deciso di vedere quello che vuole nei testi antichi e la paleo astronautica rientra nel terzo caso cioè ci sono delle prove fattuali quindi non le semplici opinioni degli scettici come il sottoscritto che di fatto smentiscono ogni singola presunta novità introdotta finora dagli autori di paleo astronautica ieri abbiamo fatto una live reaction non si contavano gli errori commessi dalla persona che parlava nel video che abbiamo commentato che ho commentato diceva che cumran era in egitto diceva che a cumran sono stati trovati i vangeli chiamava i libri di enoch un vangelo sbagliava le datazioni sia dei vangeli canonici che sia di del vangelo di giuda quindi veramente era una serie di errori madornali per cui ci sono proprio le prove del contrario ci ci sono proprio le prove fattuali che quelle affermazioni erano sbagliate poi ogni singolo mistero tra virgolette creato ad arte dagli autori di paleo astronautica è stato già spiegato con prove dimostrazioni esempi di misteri creati ad arte nessuno sa cosa significhi elohim quando invece il significato risaputo al massimo non si conosce l'etimologia ma ho detto altre volte che non sappiamo l'etimologia di tanti termini ma noi sappiamo benissimo il loro significato ho sempre fatto l'esempio del termine ammiraglio di cui l'etimologia è incerta pare derivi dall'arabo però non è sicuro però quando diciamo ammiraglio sappiamo benissimo cosa significa e quindi si tratta di creare misteri ad arte oppure quando si parla dell'evoluzione che tirano ancora una volta fuori la questione del anello mancante che un concetto che è stato superato diversi decenni fa però si tratta di creare il mistero dove non c'è e dicevo in questi presunti misteri spesso la risposta c'è già quindi nell'origine della nostra specie ho fatto l'esempio dell'anello mancante sull'origine delle civiltà quando paliastronautici dicono spesso che i sumeri sarebbero apparsi dal nulla invece ci sono le prove del contrario più o meno un anno fa è stato un archeologo il dottor jacopo sala che ha mostrato diverse prove che nell'area c'è stata dove c'erano i sumeri c'è stata una evoluzione graduale delle tecnologie agricole e non costruttive prima dei sumeri quindi ci sono proprio le prove del contrario che smentiscono questo vero e proprio dogma della paliastronautica così come l'origine delle lingue sono attestate per quanto fin dove può arrivare la scrittura quindi documenti che le lingue si siano evolute e continuino a evolversi è un dato di fatto incontrovertibile che che ne dicano i paliastronautici che più di qualcuno ha detto che l'episodio della torre di babele sarebbe stato reale e quindi che l'origine delle nostre lingue sarebbe stata opera diretta degli alieni per confonderci in modo che noi non costruissimo un razzo per arrivare sin da loro oppure anche il fatto che la bibbia parla di più divinità anche questo è un po un segreto di pulcinella si sapeva già da secoli anche lì c'è una risposta molto più prosaica che non richiede soprattutto come spiegazione l'ipotesi extraterrestre allora la bibbia dice il vero e non sempre non sempre perché l'archeologia biblica ha mostrato una realtà che spesso è molto diversa dal racconto biblico ad esempio non vi sono prove che l'esodo sia mai avvenuto non vi sono prove della presenza ebraica nell'egitto faraonico mentre per l'età ellenistica le cose cambiano parecchio non vi sono prove dell'esistenza di nessuno dei patriarchi biblici e aggiungo gli scavi che sono stati fatti nella città vecchia di gerusalemme mostrano sì l'esistenza di un tempio all'epoca in cui sarebbe vissuto salomone però le dimensioni di questo tempio non corrispondono affatto a quelle riportate nella bibbia il tempio di salomone così come è descritto nella bibbia presenta delle caratteristiche tipiche dei palazzi o dei templi persiani quindi è chiaro che si tratta di un anacronismo quel brano è stato scritto o durante o dopo l'esilio babilonese per cui ci sono le prove archeologiche che smentiscono il racconto biblico e crederci diventa questione di fede non è più una scienza di la bibbia almeno stando a quello che emerge dalle prove si mostra per lo più come una raccolta di testi di autodefinizione di un'identità tra virgolette nazionale fu redatta quindi si parla di alcuni testi che potrebbero essere più antichi o anche trasmissioni orali testi quando dico testi non intendo necessariamente testi scritti per testo si può intendere anche qualsiasi cosa trasmessa oralmente si parla infatti di testi orali fu redatta per lo più al rientro dall'esilio babilonese quindi alla fine del sesto secolo quando la questione era principalmente era dibattuta su chi fossero i veri tra virgolette ebrei cioè quelli che erano stati esiliati o quelli che erano rimasti vi sono modi di vedere di intendere la questione del rapporto tra l'essere umano e la divinità o il modo di intendere la divinità totalmente diversi quindi è contrastanti tra loro quindi la bibbia è un insieme di testi estremamente variegato tra le altre cose nella bibbia vi sono anche dei poemi non è vero che i salmi siano solo canti di guerra ci sono anche poesie normali tra virgolette c'è anche un poema erotico mi riferisco al cantico dei cantici tra cui per esempio c'è questa immagine oltre a quelle che sono più spinte diciamo così però c'è questa immagine per dire secondo cui i denti della persona amata sono come sono paragonati a pecore per il loro candore ha senso chiedersi se è vero o no che i denti delle persone sono come pecore no è chiaro che esistevano le metafore e le usavano e la bibbia le contiene allora l'ebraismo come tutte le religioni come tutti i fenomeni storici ha vissuto una storia complessa e continuo a vivere una storia complessa e aggiungo anche travagliata spesso è la paleostronautica ritenendolo un fenomeno monolitico proprio come si autora rappresentano spesso le tradizioni religiose a opera di quelli meno inclini a un approccio storico la paleostronautica dicevo appiattisce tutto dice gli ebrei dicono così gli ebrei pensano così quando poi una delle caratteristiche principali dell'ebraismo è quella di mettere in discussione totalmente tutto c'è il famoso proverbio ebraico secondo cui dove ci sono due ebrei ci sono tre opinioni gli autori di paleostronautica e i loro seguaci ignorando in entrambi i sensi del termine questa caratteristica dell'ebraismo lo appiattiscono e lo rendono un fenomeno monolitico distorcendo quindi la realtà dei fatti l'immagine della realtà distorta totalmente distorta invece di studiare la complessità quindi non solo dal punto di vista religioso ma da altri punti di vista invece di studiare la complessità preferisce ridurre tutto a una sola risposta di comodo il complotto alieno spesso unendo le due per esempio il passaggio dal enoteismo al monoteismo è frutto di un complotto la nascita delle lingue è un complotto alieno l'evoluzione umana un complotto alieno non si fa la fatica di studiare no quelli che hanno che studiano hanno torto e hanno ragione loro che poi tra l'altro non so se notate è la stessa risposta a tutto e loro poi predicano agli altri l'apertura mentale quando poi sono loro i primi a usare sempre la stessa risposta ai fenomeni più disparati rifiutandosi peraltro di leggere o di provare a capire il metodo scientifico e quindi gli autori di paleo astronautica ripeto presunti studiosi di religioni ancora una volta ignorano delle questioni fondamentali sulle religioni e commettono errori che non commetterebbe neanche uno studente del primo anno però poi allo stesso tempo vogliono paragonarsi ai professori ai ricercatori dicendo che loro devono riscrivere la storia e non solo viene appiattita ma anche banalizzata perché la bibbia presenta un'evoluzione da una fase enoteista dell'ebraismo a una monoteista quindi ci sono brani che parlano di più dei ma ci sono molti 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 brani che parlano di un solo dio cioè che dicono che il dio biblico è uno solo e basta ed è l'unico che esiste invece viene appiattito tutto dai pali astronautici che ti dicono la bibbia non parla di dio punto alcuni salmi sono a tema bellico viene tutto appiattito e banalizzato come i salmi sono canti di guerra quindi si va avanti a slogan né più né meno a questo poi va bene ho già parlato però ci ritorno in breve allora ai pali astronautici piace dire che la loro teoria preferita sarebbe scomoda non sarebbe accettata dal mondo accademico perché sarebbe scomoda ma in realtà no perché i loro autori come ho già detto commettono errori che non commetterebbe neanche uno studente del primo anno per esempio errori metodologici collegare a caso basandosi solo su assonanze e vaghe somiglianze per esempio disegno di sottosinistra vedete in basso a destra ci sono due segni che un autore di paleastronautica citando una fonte non attendibile diceva che quelli sarebbero due segni sumeri che si pronuncerebbero ru ea quindi da lì dice da lì viene l'ebraico rua quando si parla di rua si parla di un disco volante prendendo quei due segni e elaborandoli come se fosse un disco volante da lì è partito tutto il filmone però peccato che il segno superiore quella specie di mezzaluna si pronunciasse shagan quindi non e poi il nome rua il sostantivo rua non viene da rua ci si basa però su vaghe somiglianze varie assonanze e non si va ad approfondire etimologicamente magari vedendo che c'è una consonante aspirata in più la cui origine andrebbe spiegata e non semplicemente ignorata fissandosi solo su una vaga somiglianza altri errori metodologici quindi si va avanti tramite come ho detto vaghe somiglianze cioè questo ricorda questo mi sembra l'abbiamo visto anche ieri era una delle argomentazioni più usate dal video che abbiamo commentato ieri si trattava solo di dire questo mi ricorda questo sembra però queste argomentazioni si smontano con un semplice sì ma a me non sembra quindi non c'è niente di scomodo in uno che dice ah ma questo mi ricorda ok a me no dove sta la scomodità altro errore metodologico citare testi religiosi tardo antichi o medievali per esempio il talmud oppure altra letteratura rabbinica come autorità riguardo alla bibbia ma sono intanto testi religiosi quindi quando va bene vengono citati testi religiosi quando fanno comodo soprattutto sono stati scritti secoli dopo la bibbia quindi nulla autorizza a prenderli come fonti autorevoli perché come sa qualsiasi studente non dico studioso ma qualsiasi studente le religioni si evolvono e le culture cambiano e l'ebraismo di 400 anni prima non era l'ebraismo di 400 anni dopo di quando sono stati scritti i testi talmudici questo è un altro grave errore che uno storico non farebbe mai lo userebbe uno storico lo userebbe al massimo per capire come è stato interpretato quel passo antico della bibbia in quell'altro contesto leggermente più recente questo è l'unico motivo per cui uno storico un filologo farebbe una cosa del genere altrimenti usarlo come fonti autorevole per interpretare un testo più antico è un errore di fondo poi ci sono errori fattuali sono quelli di cui ho parlato ieri come attribuzioni sbagliate epoche sbagliate e poi ci sono errori linguistici di cui abbiamo 11 esempi a sinistra infatti in due versetti quindi una pessima conoscenza dell'ebraico mostrata anche dalla video che abbiamo commentato ieri ma anche dell'inglese nei dizionari come la voce zelem questo rimando un video che ho fatto su osa sapere all'epoca quando ancora si chiamava teotube che ho mostrato come il dizionario di ebraico ebraico inglese venga letto un po in modo distorto per far sì che zelem significhi dna e soprattutto anche se la bibbia parlasse letteralmente di alieni al massimo si potrebbe concludere che gli antichi ebrei credevano agli antichi alieni quindi non c'è nulla di scomodo non può esserci nulla di scomodo perché non hai sconvolto niente sulle origini non hai fatto nessuna scoperta sulle origini della nostra specie al massimo se riesce a dimostrare che gli antichi ebrei credevano negli alieni allora al massimo avrai dimostrato che gli antichi ebrei credevano negli alieni quindi anche se fosse vero tutto quello che dicono i pali astronautici non sarebbe nulla di scomodo ma sarebbe al massimo qualcosa da correggere su quel da quel punto di vista non cambia mica la religione contemporanea per esempio questo già se fosse vero se la bibbia parlasse letteralmente di alieni a maggior ragione non ne parla in modo letterale allora la palle astronautica più che scomoda è un insieme di pretesti per poter leggere la bibbia in senso ideologizzato secondo una propria ideologia se fosse davvero scomoda perché ha tutto questo successo perché ci sono tanti canali sulle varie piattaforme che hanno un sacco di visualizzazioni perché questi libri vendono tanto se fosse così scomoda dov'è questo presunto sistema che non vuole che si sappiano certe cose forse non esiste o forse non funziona o forse la paleo astronautica è funzionale a questo presunto sistema poi mi si dice che la paleo astronautica sono solo ipotesi parliamo di ipotesi io parliamo di voli di fantasia perché nel metodo storico critico si sceglie di attenersi alle prove il che dal mio punto di vista significa rimanere ancorati alla realtà ovviamente le ipotesi sono benvenute queste ipotesi però vanno basate direttamente sulle prove come ho detto più volte quindi si tratta di interpretazioni sì ipotetiche però almeno basate su dati concreti la paleo astronautica invece si basa su sovra interpretazioni basate su descrizioni di oggetti mai visti come l'arca dell'alleanza come le fod come il carro di ezechiele di fatto non li ha mai visti nessuno loro si fissano sui testi e dicono no secondo noi questi sono oggetti tecnologici e cominciano a fare speculazioni su oggetti tecnologici ieri abbiamo visto che all'arca dell'alleanza erano attribuiti poteri a caso quindi quello di far crollare quello di cos'era di congelare quello di comunicare quindi valeva un po di tutto all'arca dell'alleanza era un jolly un factotum un oggetto multifunzione però stiamo parlando di un oggetto che nessuno ha visto c'è un conto sarebbe se avessimo davanti l'oggetto ma se noi abbiamo davanti solo un testo che parla di un oggetto siamo nel campo della speculazione più selvaggia e come ho detto più volte sono ipotesi basate su altre ipotesi per esempio la bibbia non parla letteralmente di alieni però siccome gli altri testi tipo quelli sumeri ne parlano allora ne parla anche la bibbia questo è un'argomentazione che ho sentito fare spesso ma che i sumeri parlino di alieni è a sua volta un'ipotesi quando si fa quel ragionamento che ho fatto prima si sta dando per scontato che i testi sumeri parlino di alieni ma quella è a sua volta un'ipotesi questo è un esempio classico di ipotesi basate su altre ipotesi quindi se una cosa non è supportata da prova rimane solo nella testa di chi la pensa poi tra l'altro ci si basa su testi che in altri punti dicono cose palesamente assurde per esempio animali parlanti il serpente o l'asina parlante il libro dei numeri allora se quei testi dicono la verità sono validi anche questi oppure si cita per non citare la bibbia citare un altro testo spesso citato dai pali astronautici la guerra giudaica di giuseppe flavio nello stesso punto in cui i pali astronautici pretendono di vedere degli alieni in quel testo si dice che è una vacca partorì un agnello allora anche questo è vero con che criterio si distingue quando un testo dice il vero e quando no da come si comportano mi sembra chiara la risposta un testo dice il vero finché da ragione alla paleo astronautica altrimenti no la paleo astronautica tra l'altro è piena di incongruenze intanto rimando a un video video recente che ho fatto che si chiama la credibilità della paleo astronautica per una lista più lunga di incongruenze qua ne elenco solo qualcuna com'è che non è stato trovato letteralmente nulla di concreto a supporto della paleo astronautica e come mai i suoi sostenitori sono costretti ad appigliarsi solo a loro interpretazioni di testi e di raffigurazioni perché non c'è nulla di concreto abbiamo solo un a me sembra a me ricorda questo mi viene in mente basta poi se siamo stati creati dagli alieni perché ora si nascondono perché due sarebbero nel congresso americano sotto mentite spoglie perché se noi siamo i loro animali da laboratori perché nascondersi da delle cavie ma poi perché inventare il monoteismo come complotto per controllare le persone in cosa consiste il vantaggio ai fini di controllo della popolazione sostituire il politeismo col monoteismo ancora una volta non fanno prima a controllarci questi alieni mostrandosi nella loro tra virgolette pluralità dire oh guardate noi ci siamo siamo tanti abbiamo queste armi non fatevi venire niente in mente perché vi abbiamo creati noi e continuate a scavare loro poi se questi alieni erano così avanzati tecnologicamente perché arrivavano a ordinare i sacrifici di animali solo per drogarsi con il fumo del grasso bruciato c'è chi l'ha detto davvero questo poi siccome si parla no di eva che sarebbe stata estratta dal dna di adamo ma da quando la clonazione porta a produrre individui di sesso diverso che io sappia la clonazione sono due persone con lo stesso dna i cloni sono di fatto due gemelli monozigoti o viceversa quindi come fa a venire fuori una femmina da un maschio ma poi perché farli accoppiare va contro ogni ogni regola della genetica piuttosto l'accoppiamento dovrebbe avvenire tra individui con un patrimonio genetico più diverso possibile altrimenti c'è il rischio di malformazioni e degli alieni ingegneri genetici non lo sapevano e lo so io che non sono manco del mestiere se siamo stati creati per estrarre loro perché non siamo stati creati con corpi più adatti allo scopo o aggiungo invece perché creare una specie non dei macchinari che costano molto meno non si ammalano non devi aspettare un tot numero di anni affinché diventino produttivi i macchinari fa quello che gli dice basta non rischiano di ribellarsi non si capisce tra l'altro visto che dicono che avrebbero creato la nostra specie mischiando il dna alieno con quello delle scimmie come è possibile che il dna alieno sia così compatibile con quello delle scimmie lo spiegano no che non c'è nessun dato ovviamente poi trovare altri pretesti per spiegarlo è facile ma non è una spiegazione ancora una volta sta inventando cioè se tu dici amala la vita ha un origine comune ma dimostralo stai parlando di esseri venuti da un pianeta che nessuno ha visto e questi esseri nessuno li ha mai visti e stai facendo speculazioni su questi qua cioè rendiamoci conto che stiamo parlando veramente di ipotesi basate su altre ipotesi cioè stiamo parlando letteralmente del nulla liberissimi di farlo ma non venitemi a dire che scienza poi se certe cose sono scomode che certi intendo certi particolari dei testi antichi se questi sono scomodi no quelli che parlerebbero di alieni com'è che sono ancora lì nella bibbia nel testo letterale e anche negli altri testi non biblici ma quelli sumeri quelli indiani che sono alla luce del sole eppure hanno avuto letteralmente millenni di tempo per farle sparire perché invece sono ancora lì perché questa obiezione mi è venuta sempre nel video di ieri che una delle tesi che sosteneva quello che parlava nel video che abbiamo commentato ieri era che questi particolari c'erano nella bibbia però poi sarebbero stati cancellati particolari brani riguardo alla presenza aliena sulla terra ma allora perché ci sono i brani biblici citati da lui stesso perché ci sono altri brani di altri testi se avessero voluto farli sparire perché non sono spariti una delle cose che dicono gli stessi paleo astronautici e che la bibbia sarebbe stata manipolata dalla cassa sacerdotale e questo ci può stare ma allora maggior ragione che senso a prenderla per vero e fare finta che volessero dire veramente quello che hanno scritto a maggior ragione se tu parti dal presupposto che sono testi manipolati dovresti avere un distacco critico invece di fidarti ciecamente di scegliere di fare con scelta metodologica che poi non segui quella di prendere per veri i testi dovresti fare l'esatto opposto visto che i pali astronautici dicono sempre che la bibbia parla di alieni ma quelli che scrivevano usavano dei termini con cui loro avevano più familiarità ma se questi qui vivevano a stretto contatto con gli alieni perché non hanno sviluppato i termini tecnici per descrivere ciò che vedevano tutti i giorni com'è che nell'ebraico biblico ci sono tanti termini riferibili all'agricoltura all'allevamento alla pastorizia e non ce n'è nessuno riferibile alla tecnologia cioè ci sono termini tecnici diciamo tecnici per indicare i vari strumenti agricoli ci sono termini per indicare il vitello ci sono diversi termini per indicare la pecora gli ovini quindi se una popolazione vive a stretto contatto con una realtà è inevitabile che la lingua si adegui a questa realtà perché la lingua ebraica a tutti gli effetti sembra proprio quella che ci si aspetterebbe da una popolazione con un'economia prevalentemente basata sull'allevamento la pastorizia e l'agricoltura visto che appunto ci vivevano tutti i giorni secondo i pali astronautici avrebbero dovuto creare dei termini inequivocabili e a proposito di termini ebraici ad esempio non c'è scritto in nessunissimo dizionario che elohim indica è sempre solo una pluralità di individui se fosse al plurale il primo versetto della bibbia sarebbe bereshit baru a elohim quindi vedete due lettere che ho sottolineato e che ho evidenziato in giallo e non bereshit bar elohim come è scritto oppure se fosse scritto uno degli elohim sarebbe scritto così quindi ci andrebbe con l'aggiunta che ho evidenziato in giallo e in sottolineato mentre quello in grigio è il versetto così come appare nella bibbia quindi che elohim sia un plurale onorifico è un dato accertato poi come ho già detto nel primo video tre anni fa anche se barà non volesse dire letteralmente creò di fatto c'è scritto che fece i cieli e la terra le piante gli animali per citare mercatini questo non lo spieghi con gli alieni barà può anche significare separò di fatto però si sta parlando di cieli e terra per far sì che zelem significhi dna bisogna travisare il testo del dizionario e ricorrere a sovra interpretazioni delle definizioni date dal dizionario leo lam come mostrato più volte nel dizionario significa anche eternità lo dicono i dizionari stessi poi c'è anche il suo sinonimo la nezza che non viene mai citato dai pali astronautici quindi i dizionari dicono il contrario chi sostiene invece certe cose è uno che dichiara di aver studiato ebraico con 20 25 lezioni serali più 8 mesi da autodidatta e che peraltro ha tutto l'interesse a vendere le proprie teorie di fatto non c'è nessun motivo oggettivo per anche solo prenderle in considerazione non dico prenderle per vere ma anche solo prendere in considerazione dato che lui stesso ammette di non avere prove quindi per me non so quanto senso abbia stare lì a mostrare i dizionari e chi sostiene certe cose che dovrebbe dimostrarlo con i dizionari non sta a me mostrare che i dizionari dicono il contrario questi sono appunto i dizionari che ho citato prima posso capire che uno non sappia leggere i dizionari monolingue e quello centrale oppure quello in bassa a destra che riportano tranquillamente significati di eternità nel caso di olam e di nezach ma per esempio se vedete quello in alto a destra al punto 1 dove ho cerchiato c'è scritto chiaramente eternity sotto olam è vero che significa anche lungo tempo durata indefinita però significa anche eternità quindi dire non esiste eternità nella bibbia è di fatto un errore dire che non c'è eternità nella bibbia è del tutto sbagliato poi sulla sinistra vedete celem quindi immagine qualcosa di intagliato invece viene erroneamente tradotto come tagliato fuori e da lì parte poi tutto un filmone di fantascienza sulla clonazione umana ma poi mi si può obiettare ma lui lascia i termini non tradotti allora ripeto il solito esempio che ho fatto più volte prendiamo la frase in inglese the white cat is on the table lasciamo non tradotto cat rimane the white qualcosa è sul tavolo is on the table quindi cos'è che è bianco e sta su un tavolo ovviamente un piatto basta chiedere un qualsiasi ristoratore o cameriere confermerà che sono i piatti le cose bianche che stanno sui tavoli o può essere un tovagliolo può essere un pezzo di formaggio e quindi questa cosa di lasciare non tradotti è un espediente che spinge poi il lettore a interpretare tramite le aspettative che si sono create prima cioè se durante tutta la conferenza durante tutto il libro tu mi parli di alieni e poi mi fai un esempio dove lasci non tradotto dice cosa sarà mai è ovvio che fino a quel momento uno ha pensato agli alieni e quindi sarà imbeccato a pensare agli alieni quindi come scritto nel sottotitolo si tratta di una sovra interpretazione mascherata da lettura senza filtri che è la stessa che fa joseph bloomrich che è stato anche citato nel video di ieri questo ingegnere della nasa che chiedere a lui cosa pensa della visione di ezechiele è l'equivalente di chiedere a un ristoratore cosa pensa di quella frase un ristoratore che non sappia l'inglese ovviamente ti vedrà quello con cui ha più familiarità ma quella deformazione professionale non è un parere autorevole il parere autorevole avrebbe senso se avessimo davvero davanti un mezzo volante ma siccome non ce l'abbiamo davanti abbiamo un testo vale più il parere di un filologo di uno storico e poi la bibbia non parla di dio come si deduce da alcuni passi per esempio il famoso deuteronomio 32 in altri ritrovamenti archeologici la religione dell'antico israele ammetteva l'esistenza di più divinità poi la bibbia ci parla anche delle lotte tra questi diversi culti e quindi era come si dice enoteista cioè riteneva vera l'esistenza di più divinità anche se sceglieva di tributare il culto solo a una divinità le cose cambiano con l'esilio babilonese con il contatto con la religione persiana e quindi da essere una delle tante divinità il dio biblico diventa la divinità universale così come lo era quella persiana da quel momento in poi i testi biblici cambiano quelli scritti dopo durante e dopo l'esilio non sono più enoteisti ma sono puramente monoteisti cioè non dice non adorare gli altri dei e sono un dio geloso perché non devi adorare gli altri ma comincia a dire gli altri dei non esistono sono idoli vuoti e così via quindi sia proprio un passaggio un cambio durante o dopo l'esilio babilonese questo si spiega tranquillamente con una naturale evoluzione del pensiero religioso in contatto con una cultura che portava un'idea di divinità diversa quella zoroastriana che la bibbia non parli di dio è vero in alcuni punti ma in altri invece la bibbia parla effettivamente di un dio unico creatore dei cieli della terra c'è poco da girarci intorno quindi il dogma secondo cui la bibbia non parlerebbe di dio è di fatto sbagliato è impreciso nel migliore dei casi dovrebbe dire la bibbia in alcuni brani non parla del dio unico ma in altri sì però capisco che questo qui come slogan non funziona tanto bene e quindi non vende altrettanto quanto l'altro quella paleoastronautica è una spiegazione non necessaria con l'approccio storico critico i testi vanno spiegati con i testi stessi o alcuni altri testi però della stessa cultura che li ha prodotti la paleoastronautica invece li rilegge e li sovrainterpreta alla luce della nostra cultura cioè della letteratura o dei film o della produzione fantascientifica del nostro secolo e del secolo passato se i padri della chiesa hanno tra virgolette sbagliato a leggere la bibbia col filtro della filosofia greco ellenistica cioè quindi col filtro di una cultura che non apparteneva alla cultura che ha scritto la bibbia lo stesso errore fatto dai paleoastronautici di oggi errore diciamo tra virgolette perché alla fine ho scritto nel sottotitolo un conto è l'interpretazione un conto è un uso sia i padri della chiesa sia i paleoastronautici contemporanei più che un'interpretazione della bibbia ne fanno un vero e proprio uso non si limitano infatti a leggere ma usano la bibbia per giustificare la loro ideologia la scala di giacobbe si può spiegare piace non solo che tutto il tema della storia di abramo isacco di giacobbe tema ricorrente quello della discendenza si può anche spiegare in questo modo quindi si possono spiegare le cose non in modo teologico ma cercando di far parlare il testo e basta o al massimo la cultura che ha prodotto quel testo forzare interpretazioni come quella ma l'astronautica è appunto una forzatura non è più un'interpretazione diventa una sovra interpretazione per non dire un uso del testo è giusto e sbagliato è una scelta però va detto va dichiarata come tale non va presentata come una lettura letterale perché non lo è non ecco perché ho messo sbagliato tra virgolette è legittimo no usare un testo per fargli dire cose che non ha detto oppure il caro di ezechiele il tema di tutto il libro è che il dio di israele legittima la cassa sacerdotale quale intermediario è privilegiata come ho detto altre volte ezechiele si presenta sin dall'inizio dicendo di essere sacerdote figlio di sacerdoti e che poi il dio di israele gli apparve fuori dal tempio e fuori dalla terra promessa fuori da gerusalemme per dargli un messaggio da riferire poi al popolo ebraico quindi un sacerdote sta dicendo che dio fuori dal tempio fuori dalla terra promessa ha comunque scelto la cassa sacerdotale come intermediaria privilegiata quindi poiché abbia voluto dire che ha avuto una visione terribile ma gli però alla fine quella è strumentale per dare messaggi di speranza al popolo questa spiegazione non come quella della scala di giacobbe queste spiegazioni non richiedono il credere necessariamente ai testi ma appunto si tratta di un'analisi critica basata sui dati su quello che sappiamo non c'è bisogno di ipotizzare che sia vero che poi l'autore ha scritto così però voleva dire cosa stiamo di nuovo nell'interpretazione allegorica a questo punto che se l'autore ezechiele per esempio dice erano degli esseri con quattro facce di animali non mi puoi dire è no ma quando ha scritto così voleva dire cosa allora c'è stai usando stai facendo rientrare l'interpretazione allegorica però poi non criticare quando lo fanno anche i teologi padri della chiesa e le risposte come ho detto prima a tutti i vari quesiti o misteri o presunti tali posti dalla paleoastronautica ci sono tutte possono essere date usando il testo stesso testi scritti da quella stessa cultura quindi da un lato abbiamo risposte fatte con i dati concreti dall'altra abbiamo le ipotesi paleoastronautica quindi dovendo scegliere che è chiaro che uno davvero interessato a capire come stanno le cose chiaro che uno si fida più di quello che ha di concreto e non a una soluzione ipotetica che peraltro apre ancora altre domande che sono destinate a rimanere senza risposta tipo dire che le nostre lingue sono state create degli alieni ne apre un'altra che diventa irrisolvibile allora come sono nate le lingue degli alieni degli alieni ci hanno dato la tecnologia come nata la tecnologia degli alieni della risposta paleoastronautica crea più domande irrisolvibili di quante non ne risolva diventa appunto come ho scritto nel titolo una spiegazione tra virgolette non necessaria quindi va scartata anche per questo motivo ma quindi se non parla di dio parla di alieni questo è un commento che mi è stato scritto due giorni fa dice questo autore di paleoastronautica sia quelle cristiane che quella ebraica non utilizzano espressamente il termine alieni peraltro venuto di moda solo nel ventesimo secolo nelle bibbie queste creature sono genericamente angeli solo che di angelico non avevano niente mangiavano si accoppiavano combattevano guerre sterminavano procreavano giganti cannibali comportamenti che sono tipici di essere in carne ed ossa e non di puri spiriti e visto che non erano auto autoctoni di questo pianeta erano dunque extraterrestri per cui ha sbagliato a scrivere in ebraico vabbè e azzilut non ascilut vabbè comunque quindi qual è il problema che di fatto però non parla di altri pianeti quindi non parla di alieni ce li vuoi vedere tu ma un conto è dire che il concetto di spirito il vicino e medio oriente antico era diverso da quello greco lenistico non è la stessa cosa che dire che erano personaggi realmente esistiti cioè da lì a concludere che erano concreti personaggi che erano extraterrestri è un salto logico non da poco poi la bibbia parla di spiriti che entrano nelle persone per esempio quando parla del faraone dell'esodo dio mandò uno spirito sul faraone quindi è qualcosa che che entra può cambiare il modo di pensare un po come diciamo noi no uno spirito di osservazione uno spirito di sacrificio che non è la stessa cosa di dire un fantasma e la bibbia tra l'altro parla chiaramente di una seduta spiritica parlo mi riferisco a quando il re saul va dalla negromante di endor per evocare lo spirito del profeta samuele che era descritto come morto cioè era stato vengono descritti i funerali quindi si sa nel racconto che il profeta era morto e quindi il re saul va da questo negromante per evocare questo spirito che tra l'altro viene chiamato elohim alla faccia di chi dice che non significhi nulla di spirituale quindi si no c'è lo spirito che non è esattamente come ce lo aspetteremmo noi si va bene però non vuol dire che fossero gli la palestra nautica è così diversa da una religione cosa ha in comune che ritenere senza nessuna prova che siano fatti reali quelli descritti nei testi vuol dire fare una scelta di fede dare per scontato che tutti i testi antichi parlino di alieni l'equivalente di adottare l'approccio fenomenologico di cui ho parlato all'inizio del video dire che gli antichi non raccontavano favole oppure dire che fare finta che gli antichi e che i testi dicano il vero mi sembrano tutti gli effetti dei sostituti laici del dogma parola di dio cioè sono entrambi i modi per dire dobbiamo credere al testo perché sì perché lo dico io o come ho già detto quando postulano quando dicono che quando hanno descritto gli ufo li descrivevano con termini a loro più familiari è solo modo per dire che per giustificare un'interpretazione di fatto allegorica cioè un modo per dire che dove c'è scritto così bisogna leggere cosa e quindi allora non si può fare però non mi si venga a dire che è una lettura letterale o si attaccano gli eretici anche riporto una simpatica conversazione avuta con un con un fan della paleoastronautica che mi ha in modo educato e garbato espresso alcune perplessità riguardo alcune cose che ne sono state dette nel video sui sumeri che non sono apparsi dal nulla quindi lui dice che non è fanatico perché è fin troppo curioso critico informato sveglio e intelligente affinché il mio tentativo di chiamarlo fanatico attecchisca se lo dice lui chi sono io per contraddirlo il fatto che la paleoastronautica ignori la scienza oppure la usi solo quando le fa comodo e attacchi continuamente la chiesa non sarà mica una guerra di religione tra religioni nel momento in cui un autore di paleoastronautica dice che si confronterà solo con i religiosi e non con gli atei vuole fare della polemica interreligiosa perché sennò cosa devo pensare perché non si confronta con gli atei o con chi non ha nessuna religione da difendere vuol dire che paragona le proprie dottrine a una dottrina religiosa mi trovo d'accordo poi fare finta che viene spesso descritto presentato come un metodo rivoluzionario ma a me sembra più un pretesto per far rientrare il dogma dell'ispirazione divina come abbiamo detto perché ormai tre anni fa ho fatto presente che nel momento in cui lo applichi ad altri testi vengono fuori dei risultati assurdi cioè se lo applicassimo la divina commedia allora dovremmo ammettere che esista dio che esista l'inferno il purgatorio il paradiso solo cerbero caronte minosse se applicassimo l'inno di mameli dovremmo ammettere che l'italia indossi l'elmo di scipione africano che la vittoria una persona in carne e ossa e capelli non le porga alla chioma tra l'altro questa è un'immagine concreta quindi stando alla logica paleoastronautica vista che non la vittoria non viene presentata come qualcosa di astratto ma come un essere in carne e ossa allora deve essere per forza vivo e quindi deve essere per forza un alieno cioè se il fatto è che ho detto ormai anni fa un metodo può essere chiamato tale nel momento in cui se lo applichi dappertutto funziona sempre ma se lo applichi solo in alcune volte e il più delle volte non funziona non è un metodo è un pretesto quindi se dimostrabilmente con gli altri testi non funziona perché con la bibbia dovrebbe funzionare molti hanno risposto è perché la bibbia ha influenzato milioni di persone vabbè ma la divina commedia no lino di mammeli no quindi qual è il numero minimo di persone a partire dal quale si può dire che il fare finta che funziona o no cioè ci sarà una soglia di influenza e però vorrei sapere qual è qual è il limite di persone a partire dal quale il fare finta che funzioni anzi non solo solo con la bibbia ma perché funziona solo con alcuni punti della bibbia e come facciamo con i brani che dicono chiaramente che il dio di israele stese il firmamento nel cielo e che creò le stelle e i pianeti lì si è costretti poi a inventarsi traduzioni sbagliate per esempio i luminari quando si parla del sole e luna si dice che dove c'è scritto firmamento in realtà si sta parlando di una diga ma nell'ebraico biblico c'è il termine per diga perché solo in quella in quel caso hanno usato il termine per il firmamento perché dire che quando si parla di luminari non si intende nel sole e la luna ma un sistema di illuminazione è chiaro che non è solo fare finta che quello che c'è scritto sia vero ma quando conviene poi il testo viene distorto a proprio piacimento quindi non viene usato neanche da chi lo propone quindi è veramente qualcosa di insulso un altro l'ennesimo pretesto queste sono delle domande che farei a un qualsiasi paleo astronautico ammesso non concesso che lo him indichi sempre una pluralità di individui cosa che non fa questo come prova che siano stati creati degli alieni ammesso non concesso che parli solo di cose concrete non spirituali cosa che invece fa vedi la seduta spiritica come prova che siano stati creati dagli alieni ma se non concesso che ruach cavode indichino dei mezzi volanti cosa che non fanno perché si usa il trucchetto del lasciare non tradotti questo come prova che siano stati creati dagli alieni poi chi ci dice che la bibbia dica il vero credere alla bibbia non è forse avere fede con che criterio si distingue quando prendere un testo per vero e quando no cioè la bibbia quando dobbiamo crederle e prendere la lettera e quando invece dobbiamo cominciare a interpretare cioè se io leggo che quello che parlava con adamo ed eva era un serpente cosa mi autorizza a dire no ma quello in realtà era enchi come distinguere quando prenderlo alla lettera e quando no come fare quando dice che c'era un'asina che parlava come fare quando dice che dio biblico dice chiaramente di aver creato i cieli e la terra il mondo accademico da sempre una risposta a questa domanda e l'ho detta più volte fino alla nausea anche in questo video quindi non la ripeto ma paleoastronautico questa risposta la sa o la ignora e in che senso l'ignora nel senso che non la sa o che che fa finta di non vederla o che non ci sente da quell'orecchio quindi ricapitolando la paleoastronautica usa dei metodi farlocchi cioè parte con un preconcetto seleziona solo i testi o i singoli brani dei vari testi che fanno comodo scartando tutto ciò che è scomodo e qualsiasi teoria non basata su prove rimane un'ipotesi e non può avere la pretesa di riscrivere la storia a maggior ragione se ci sono le prove del contrario come abbiamo visto cioè se un'ipotesi si basa su quelle premesse fallaci allora deve essere scartata la responsabilità di creare una teoria valida ricade su quelli che la propongono non sugli scettici che la scartano perché vedono delle grosse falle la teoria tra l'altro deve spiegare le cose meglio di quanto facciano le teorie esistenti non basta fare i bastian contrari dire delle bagianate inventarsi delle traduzioni o delle letture o delle interpretazioni e poi prendersela con quelli che non ci credono poi facendo poi la vittima dicendo che quello che si dice è scomodo e quindi viene rigettato in quanto scomodo no viene rigettato in quanto sbagliato e spesso gli autori di paleo astronautica si rivelano incompetenti come si è visto nel caso dell'ebraico che commettono errori madornali di diverso tipo che non commetterebbero neanche gli studenti del primo anno però poi tuttavia come ho detto prima hanno la pretesa di essere al pari dei ricercatori o dei professori se non ancora più bravi dicendo che gli altri sono chiusi di mente invece loro avrebbero capito tutto dall'alto di non si sa quali quale sapienza infusa la paleo astronautica è una questione di apertura mentale o più che altro forse di business cioè errare umano e gli errori li commettono anche gli accademici però questi ultimi si correggono anche a me è capitato di fare un paio di errori nei vari video però mi sono corretto pubblicamente i paleo astronautici no per esempio la questione del rua che ho detto prima di due segni allora vedete nell'immagine in basso in basso a destra all'autore che ha proposto questa pseudo etimologia ripeto citandola da altri fu già fatto notare diversi anni fa che era sbagliata quel segno non si legge ru e che con quella sua fonte sbagliata l'altro quello non sarebbe neanche sumero sarebbe preso da una stella fenicia quindi sarebbe proprio totalmente sbagliato è però questo autore che fece sparire quei commenti e continua a riproporla ancora quella pseudo etimologia gli errori li facciamo tutti però c'è chi li ammette e si corregge c'è chi invece continua imperterrito è veramente questione di apertura mentale problema non sono non è un singolo errore che ripeto può capitare a tutti ma il problema è che proprio quando questi errori sono proprio alla base che vanno proprio a minare tutto tutta la tutto l'impianto teorico c'è una grossa differenza e che però spesso notato almeno in questi anni che nei seguaci della paleoastronautica questa differenza non è chiara se un accademico sbaglia questo errore viene usato per invalidare tutto quello che dice quello accademico per non dire tutti gli accademici se si tratta di errori di minuzie se poi un autore di paleoastronautica prende delle cantonate mostruose e va bene non fa niente si fanno evidentemente due pesi e due misure la paleoastronautica tra l'altro è diventato un business redditizio vedete in basso a sinistra è un gioco da tavolo fatto su delle teorie paleoastronautica del basso a destra vedete il young frau park di eric van deniken parco a tema paleoastronautica ma in generale la pseudo storia è un business cito qui il pendolo di fucco di umberto eco scritto negli anni 80 in cui si parla di una casa editrice che per pareggiare i conti crea una casa editrice fittizia che decide di pubblicare libri di pseudo storia libri esoterici libri cospirazionisti quindi già negli anni 80 si sapeva che questi temi vendono parliamo ormai di quasi 40 anni fa ed è vero ancora adesso come ho detto prima i libri vendono tantissimo quindi andrebbe contro i propri interessi dell'autore di paleoastronautica ammettere di aver sbagliato anche perché poi ho visto come ragionano i loro seguaci basta un singolo ammettere un singolo errore per cui tutto quello che dice automaticamente viene invalidato chiaramente dipende da errore a errore e loro sì che rischiano di perdere il posto non gli accademici perché poi i paleoastronautici ma i pseudo storici in genere dicono che gli accademici non rivelano certe verità perché avrebbero paura di perdere il posto ma in realtà questa si chiama a casa mia si chiama proiezione che sono loro che rischiano di perdere il posto se ammettono l'errore ho fatto l'esempio fino alla nausea dico becritepe che è un esempio eclatante in cui il mondo accademico ha riscritto senza problemi i paragrafi relativi all'inizio della storia o della preistoria che non è stato mica insabbiato quelli che dicono e ripetono le stesse cose sono ovviamente sempre i paleoastronautici che non hanno di fatto mai scoperto nulla questo lo devo rimarcare tutte le volte proprio andiamo sull'atto pratico proprio sulle sui risultati concreti la paleoastronautica non ha mai portato nessun risultato concreto e questo è un dato di fatto questo basta a smontarlo eppure esiste da almeno 60 anni a proposito questa è una cosa da slide che ho fatto all'ultimo momento il paragone tra la paleoastronautica e l'astrologia in comune hanno entrambe sono non sono considerate scienze ovviamente entrambi hanno a che fare con gli astri entrambe fanno affidamento sui testi antichi però ci sono delle enormi differenze perché i testi antichi parlano letteralmente ed esplicitamente di astrologia e ce ne sono veramente migliaia credo che non ci sia nessuna cultura almeno tra quelle che hanno lasciato qualcosa di scritto che non abbia dei testi astrologici sono veramente migliaia una letteratura sterminata perché per la paleoastronautica invece gli antichi scrivevano in modo contorto cioè nel caso dell'astrologia avevano i termini tecnici a volte usavano i termini greci a volte venivano tradotti oppure venivano usati degli equivalenti quindi dei calchi nel persiano nell'ebraico nell'arabo nel siriaco c'è una letteratura sterminata è piena di termini tecnici è anche abbastanza elaborata perché il paleoastronautico per coerenza non è anche un astrologo dato che gli antichi non raccontavano favole perché queste cose che sono scritte esplicitamente non vengono credute dal paleo astronautico mentre deve arrampicarsi sugli specchi per per far sì che questi testi parlino di alieni soprattutto se gli antichi erano davvero in contatto con gli alieni che avrebbero trasmesso loro conoscenze tecnologiche avanzate o scientifiche avanzate perché gli antichi conoscevano solo i cinque pianeti visibili occhio nudo e che poi tra l'altro descrivano con i moti attraverso una prospettiva geocentrica e poi sono stati costretti a inventarsi dei sistemi complicatissimi per salvare le apparenze dove sta la coerenza allora se dobbiamo credere i testi antichi i paleoastronautici per coerenza devono essere tutti astrologi perché gli antichi parlavano di astrologia e di teologia tra l'altro però se per la teologia possono tirare fuori il complotto no che la religione è stata creata per controllare vabbè allora l'astrologia come mettiamo conclusioni la paleoastronautica è proposta da autori che mostrano spesso scarse competenze non solo nelle lingue ma proprio nel materia di metodo d'indagine il metodo scientifico metodo storico critico è ovviamente un forte pregiudizio di partenza la loro ricerca non mi sembra sinceramente interessata al pensiero antico ma mi sembra funzionale ad avere appigli semplicemente per poter dire di aver ragione quindi mi sembra più una questione proprio personale cioè io sostengo così e quindi vado a trovare quello che dico io perché io ho ragione me ne accorgo almeno l'impressione che ho è dalle risposte che ricevo quando provo a discutere di paleoastronautica cioè la loro ricerca mi sembra più ricerca di conferme nonché ricerca di fama e di successo se certi autori fossero davvero interessati alla ricerca avrebbero già discusso con gente competente quindi la famosa revisione paritaria invece di vendere i propri prodotti direttamente a un pubblico ignaro quindi la paleoastronautica nella bibbia fa confusione detto mischiando i tre piani della veridicità della bibbia del significato di termine della menzione di alieni e quindi è un mischione ideologico difficile da districare ea cui poi ci si attacca in maniera fideistica in modo simile a una religione per non dire una setta quindi